Perché parliamo, intanto ho avviato un po' tutte le registrazioni, parliamo della professoressa Clara Ferranti, docente dell'Università di Macerata, docente di glottologia e linguistica, Ferranti anche e soprattutto in questo caso l'abbiamo interpellata come referente regionale del Movimento Pro Vida, anche vicepresidente delle Marche, del forum Famiglie Marche. Intanto io la saluto, buonasera Ferranti. Buonasera. Ecco ci siamo, ci siamo, siamo perfettamente in onda. Allora, l'abbiamo chiamata perché non so, o si sono scatenati ultimamente, sa di fatto che ci danno l'occasione di sentirci su temi che voi come Movimento Pro Vida affrontate e affrontate anche in maniera, diciamo così, attiva, cioè creando manifestazioni, facendo raccolto di firme come l'ultima che raccolta 32 mila firme e per fermare quel esperimento che volevano fare e l'hanno fatto, anche se non si sa in quale luogo perché a questo punto non si è riuscito. Ovviamente passa il catto. È familiare, ormai sa come muoversi. È un classico. Grazie. E no, perché chi non ci segue in video è passato un micio appunto davanti alla telecamera. Allora, Ferranti, cerchiamo di capire perché avete contestato, ora non è che ci voglia tanta fantasia, eh, per capirlo. Comunque entrando, questo ci dà l'opportunità di entrare in questo tema, cioè il laboratorio era intitolato bambini trans ed ai 5 ai 14 anni, o meglio, diamo un titolo più corretto, c'ho qui il manifesto, il laboratorio per bambini trans e gender creative, 28 settembre, quindi dai 5 ai 14 anni, condotto da, a parte gli esterischi che ci creano difficoltà nella lettura, ricercatori, ricercatrici della comunità di Ede, un'insegnante montessoriana, hanno addirittura scomodato montessori. Allora, è possibile un bambino di 5 anni che magari, parliamoci chiaramente, non riconosce neppure, ne è consapevole di un'eventuale sua patologia, no? Nei bambini piccoli. Può capire se è in una fase trans, cioè nel senso che non ha ancora conoscenza del proprio corpo, se è femminile, maschile, se è un trans, se è un binario, non lo so. Come si fa? Con quale fine si fanno e si organizzano questi esperimenti? E poi in una, in un'università. Allora, grazie innanzitutto per questo invito, sì. Ma diciamo che sono tante le questioni in ballo, anche quelle mentre presentava, no? Che ha tirato fuori. Allora, innanzitutto partiamo dai bambini. Allora, un bambino di 5 anni, ma comunque fino all'adolescenza avanzata, ovviamente non può essere in grado di percepire durante la crescita del proprio corpo, con consapevolezza quello che succede, che succederà al proprio corpo, anche perché è in atto. Siamo bloccati, professoressa. Ci siamo bloccati. Un attimo. Mi sentite? Sì, adesso sì. Ecco, va bene. Dicevo, a 5 anni presentare laboratori di questo genere che fanno, come dire, manifestano un mondo in cui ti viene detto che potresti nascere nel corpo sbagliato, quindi che è normale, no? Presentarlo come normalità, che se sei donna potresti in realtà percepirti uomo e viceversa. Già questo è dal punto di vista antropologico, pediatrico, anche proprio dal punto di vista medico, dal punto di vista educativo, formativo, totalmente sbagliato e forviante, innanzitutto. Non esistono i bambini trans. Cioè, non esistono. Proprio in natura non possono esistere bambini trans, perché siamo in un momento proprio di sviluppo fisico, mentale, cerebrale, neuronale. Questo ne abbiamo già parlato altre volte, se non sbaglio, no? Quello che avviene, insomma, nella mente dell'essere umano, nel momento in cui fino all'adolescenza, fino alla pubertà, insomma, avviene tutto quello che avviene dal punto di vista ormonale, della crescita. E quindi proporre cose di questo genere, certo, dovrebbe avere effettivamente, evidentemente un altro fine. Non è ludico, creativo per far divertire i bambini o per mostrare quello che potrebbe essere una realtà nella quale loro potrebbero trovarsi. Evidentemente ci sono altri fini. I fini sono quelli dettati dall'agenda, oramai la subiamo da parecchi anni, dall'agenda ideologica educativa LGBTQ e più chi ne ha più ne metta di queste lettere alfabetiche fino alla Z, diciamo, via. Quindi in maniera un po' ironica. Ecco, che cosa c'è dietro? Ora, c'è chi sono i mandanti? Perché ecco, una cosa che colpisce per tornare all'università, proprio perché a un'università io in qualche modo mi sento chiamata in causa perché faccio parte di un mondo accademico, no? E purtroppo non è che in Macerata sia messa meglio, eh? Tanto meglio l'università di Macerata da questo punto di vista. Però adesso occupiamoci di Roma 3. C'è un comitato etico che è composto da determinate persone che se danno il, mettono il sigillo su un'iniziativa che dovrebbe essere in qualche modo patrocinata dall'università, quantomeno dovrebbero sapere di che cosa si tratta, dovrebbero essere esperti e capire se qualcosa, visto che è proprio un comitato etico, se è qualcosa di eticamente giusto, valido, no? E allora abbiamo visto invece che il comitato etico è composto da personaggi che sono, io me li sono segnati da qualche parte proprio per, perché non è, insomma, è qualcosa di estremamente allucinante pensare che, arriva, eh? Allora, qui ci sono praticamente tre professori emeriti. I professori emeriti sono persone in pensione che hanno avuto un riconoscimento per l'attività accademica e scientifica che hanno svolto. Però certamente sono di diritto internazionale, di filosofia del diritto e di storia contemporanea. Ora, quali competenze questi tre professori emeriti benvenuti da VAC e Moro avrebbero per decidere se il progetto proposto è qualcosa di scientificamente valido? Poi c'è una avvocato penalista e una professoressa di storia del teatro, Manenti e Venturini. Ecco, questi sono i colleghi, possiamo dire, che fanno parte del comitato etico di Roma 3, che avrebbero dato il loro benestare a questa iniziativa e quindi non possiamo che rilevare, questo, insomma, come dire, è qualcosa che forse fa veramente indignare, che c'è una grande superficialità evidentemente nella non conoscenza dei fatti, oppure c'è appunto una ideologia, un voler stare al passo con i tempi. Quello che la moda adesso attuale ti propone lo abbiamo visto anche con queste Olimpiadi, se vogliamo, no? La Imane Calif, chiaramente uomo perché è XY e la scienza dice che XY è uomo, non può essere donna, quindi casomai andava veramente visto, ma dal punto di vista medico, no? Indagato meglio di quello che invece non hanno fatto. Abbiamo visto così come oramai è di moda questo tema, non c'è niente da fare, ci sta inondando, no? Stanno inondando e però le persone, io da quello che sento, si stanno veramente iniziando a stancare, perché loro pensano di essere, diciamo, quelli che portano avanti il progresso, in realtà stanno facendo regredire l'umanità, perché tutto questo crea tantissima confusione nei bambini, soprattutto, quindi le vittime vere, sacrificali, e sono quelli che vengono presi proprio per sperimentare le loro folli ideologie, però noi siamo la maggioranza, noi chi? Noi persone dotate di buonsenso che guardano i fatti, guardano alla scienza e guardano soprattutto agli studi scientifici. Ora, la cosa grave non è solo, non è solo che un'università abbia da, e tra l'altro un dipartimento di scienze della formazione che si deve occupare di bambini, quindi della loro sana crescita, casomai, no? Non è tanto solo appunto il fatto, dicevo, che una università abbia, come dire, abbia dato il benestare, quanto che tutta questa gente, il comitato etico, abbiano ignorato, forse volutamente ignorato, che i paesi progressisti, e cioè l'America e l'Inghilterra, che per primi, ma ben prima di noi, hanno iniziato a diffondere la teoria gender, sono quelli che stanno facendo marcia indietro, sono quelli che stanno tornando indietro, sono quelli che stanno dicendo fermi tutti, qui stiamo creando danni, perché i farmaci che sono bloccanti della pubertà, la triptorelina, si deve ancora studiare. Il bello è che, tra l'altro, proprio in un articolo leggevo di Fanpage, Fanpage, dopo approfondisco un po' meglio, però è quello che ha detto, no, no, il laboratorio si è tenuto, però lontano dalle polemiche, dall'odio che ha suscitato da parte della destra, no? Ecco, Fanpage ha dato questa notizia, che in realtà il laboratorio si è tenuto, anche se sembrava non si fosse tenuto in realtà, quindi notizie dal web le abbiamo contrastanti. Loro dicono, con il benestare dell'università, che in realtà si è tenuto, e la cosa molto preoccupante è proprio il fatto che dicono che, è questo, loro stessi dicono, che, allora, protagonisti del laboratorio di orientamento rientra in una casistica, clinicamente riconosciuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma di che cosa stiamo a parlare? Poi, però è un fenomeno ancora poco studiato, ma proprio perché poco studiato probabilmente non puoi mettere in campo sperimentazioni su creature che il cui, l'impatto sulla mente e sul fisico dei bambini ovviamente è devastante, perché bloccare la pubertà può mettere in testa idee totalmente sballate, e cioè che tu puoi essere nato in un corpo sbagliato, perché questa è un'idea sballata che è proprio al di fuori della realtà del buonsenso, significa rovinare il suo futuro, rovinare il bambino, cioè rovinare anche se fosse uno solo, comunque lo hai rovinato quel bambino, e in realtà non è uno solo purtroppo, perché in Italia si pratica negli ospedali, si pratica questo bloccaggio della pubertà, la legge lo consente anche per minori di quell'età, che poi è devastante qualora dovessero fare un percorso inverso. La legge non lo consente, ma il problema, ma non c'è una legge, questo è il fatto, c'è un vuoto normativo, perché? Perché gli ospedali, ci sono in Italia ospedali che hanno praticato questo, c'è il caso Careggi mi pare, adesso non mi ricordo bene, però ci sono stati dei casi, no? E il fatto è che, tant'è vero che le forze politiche questa volta si sono scatenate, no? Si sono scatenate perché qui ci sono vari, dunque, lo leggevo, sì, sono comunicato stampa proprio oggi, che due, insomma, di Fratelli d'Italia, allora intanto la Bernini ha chiesto di indagare su quali soldi pubblici sono stati usati, su quali basi, eccetera, e va bene. Poi alcuni deputati, senatori di Fratelli d'Italia, lo stesso, si sono, insomma, indignati, hanno detto che queste ideologie non devono essere portate avanti, sperimentazione sui bambini, eccetera, quindi in qualche modo, ecco, l'ospedale Careggi di Firenze, infatti, proprio questo, dove la triptolerina è stata somministrata senza le adeguate valutazioni cliniche. Ecco, allora, se c'è questa rivolta da parte del mondo politico per il caso del Laboratorio a Roma 3, ma allora, per quale motivo, che cosa si aspetta a fare una legge che impedisce proprio a ogni ospedale, a ogni medico, di svolgere questa sorta di sperimentazione sui bambini? Quindi non è solo il laboratorio, perché il laboratorio non è altro che una conseguenza, di una humus culturale nella quale stiamo vivendo. Quindi, se la politica vuole veramente fare la politica e vuole, insomma, dare un indirizzo che sia di buon senso, allora bisogna che inizi a fare le leggi necessarie affinché queste scempiaggini non avvengano, perché è sulla pelle dei bambini. È proprio, è gravissima questa situazione. Quello che sta accadendo è il fatto che ci sono università, scuole che si sentono libere di mettere programmi educativi o libri, che ne so, oramai anche libri per bambini, lo abbiamo visto, in cui si racconta, si narra una realtà che non è la realtà, che non è la realtà. La vede, professoressa, io ho cercato anche di capire, leggendo qualche articolo, sia quelli che hanno preceduto questo incontro, questa iniziativa di sabato, sia anche subito dopo, di capire il perché, cioè quali erano le motivazioni che ha spinto il comitato etico a dare l'approvazione, il rettore dell'Università di Roma 3 a giustificare questa specie di… no, è proprio un vero e proprio patrocinio, perché non è soltanto ospitato all'interno di un istituto universitario, ma è l'università stessa che fa parte attiva di questa iniziativa. Io ho provato a sentire, a capire, a leggere, non lo so, non ci capisco un granché, lui dice che ancora una volta, dice si precisa ancora una volta che il laboratorio al quale si è riferiti non consiste né in un corso, né in un insegnamento, si tratta di un singolo incontro nell'ambito di una ricerca non finanziata, che non prevede in alcun modo attività finalizzate a influenzare i minori su questioni legate al genere, come molte altre ricerche, gli strumenti per raccogliere le storie, i vissuti personali, in ragione dell'età, delle persone coinvolte sono di carattere… cioè, non dicono niente, tanto è vero che poi contraddice il manifesto stesso, se loro dicono laboratorio per bambini trans e gender… non ho capito più chiaro… è una totale contraddizione, anche questo rettore… ci significa che anche loro non capiscono l'assurdità di un'iniziativa del genere, allora le cose sono due, secondo me, o si vuole ancora una volta portare avanti queste iniziative che tendono a minare l'integrità delle famiglie e quindi capacità di uno sviluppo naturale e biologico dell'essere umano, ai quali fini non so se ridurre la natività nel mondo, oppure perché c'è un interesse in quanto c'è la medicalizzazione di questi trattamenti e quindi l'uso di farmaci, ci sono… non capisco che cosa può portare un'iniziativa… vogliamo semplicemente aiutare un essere umano a capire il proprio corpo, ma lo capisce per proprio conto, naturalmente e biologicamente… La natura, esatto, esatto… la natura farà capire durante la crescita, anche perché nei casi, nei rarissimi casi di disforia di genere… questi sono gli esperti che lo dicono… ok, gli esperti, però quelli veri, non quelli che si sono improvvisati in questo laboratorio, dicono che durante l'adolescenza quei rarissimi casi di disforia di genere vengono risolti durante l'adolescenza. Questo è un dato… cioè bisogna guardare ai fatti, ai dati. Questo è un dato di natura, può esistere, però vengono risolti la maggioranza dei casi. Quindi sono pochissimi i casi in cui… quindi non è questo un buon motivo per far passare come normale, come normalità, il fatto di sentirsi in un corpo sbagliato, prima cosa. Seconda cosa… Vorrei suggerire una cosa, ma i genitori dove stanno tutta questa… Allora, questi… no, c'è scritto questo… I genitori dovrebbero… sono parte, diciamo così attiva, complice di questa operazione. Beh, era così descritto questo laboratorio. È descritto come per genitori, per aiutare i genitori che si trovano davanti a figli che avrebbero dubbi sul proprio sesso. Quindi i genitori sono almeno di questi bambini fatidici che ci sono stati, sono stati invitati, dicono appunto che effettivamente si è tenuto a porte chiuse, questo laboratorio cambiando sede proprio per proteggere queste famiglie, sono genitori di bambini appunto che sono consenzienti, sono stati da quello che sappiamo, dalle informazioni, dalle informazioni che ci sono state date. Quindi noi che cosa possiamo dire? Possiamo dire che alcuni genitori evidentemente hanno perso il lume della ragione e sono, come dire, sono state molto facilmente attratte da venti di dottrina, da venti di dottrina che vengono da non si sa dove, per chissà quali ragioni politiche, per quali ragioni ideologiche, di dove invece l'ideologia dovrebbe essere veramente sparire quando parliamo di un mondo come quello infantile. Perché il bambino che non è ancora cognitivamente capace, ma non lo è ancora, di capire se... tutto ciò che riguarda la sua sessualità e il modo in cui svilupperà, non si può lasciare in mano di gente che non ne sa nulla, di un comitato etico che tutto è tranne che esperto di queste tematiche o di ricercatori, dicono loro, ma poi mi sono andata anche a vedere il profilo di questa Mariotto, poi dopo se vuole ne parliamo un attimo, in mano a persone di questo genere, no? Lì dove veramente è in ballo il loro futuro e la loro vita, la serenità di questi bambini. Fanno danni impensabili e i danni impensabili in realtà li vediamo purtroppo, dai detransitioner. Perché queste persone che, come dire, ignorano i dati della scienza e i dati che ci vengono da quei paesi che già più avanti di noi hanno già sperimentato queste cose e stanno tornando indietro e non si capisce perché devono ignorarle, allora dovrebbero veramente, cioè dovrebbero andare a vedere cosa dicono i detransitioner. Sono quei ragazzi e quelle ragazze a cui è stata somministrata la triptorelina con danni irreversibili, oramai, e che iniziano loro stesse a denunciare quelle strutture che gli hanno permesso di fare il cambio di sesso perché li hanno rovinati per tutta la vita. Allora noi questi detransitioner, come provite famiglia, stiamo in contatto anche con queste persone, cioè provite famiglia è una realtà ovviamente che sì, dicevi prima, prende di petto ovviamente tutte queste questioni perché riguardano la salute e il benessere dell'essere umano, quindi è chiaro che abbiamo a cuore quella che è la salute della donna, la sacralità della vita, dal concepimento, lo sappiamo, ne abbiamo parlato tante volte e quindi anche il mondo assolutamente sacro e intoccabile dei bambini che non sono ancora cognitivamente pronti per fare delle scelte. E le scelte chi le fa? Ah cioè, chi le fa? Questi finti ricercatori o i genitori che sono disorientati, non sanno che pesci prendere? Quindi decidono loro… È così complessa appunto, la facciamo così complessa è una questione, come dicevamo prima, che tutto ciò che è legato alla biologia e allo sviluppo dell'essere umano è una cosa che l'individuo stesso la percepisce strada facendo e quindi la viva con naturalezza, se ci avrà l'istinto di andare con una donna, se no creiamo la fine del genere umano se non ci fosse stato questo istinto naturale, non vi lo facciamo così brodosa. E appunto io ho detto che ci sono altri fini che veramente sono agghiaccianti, ma se pensiamo che persino il governo laborista è entrato a piedi tesi su questa questione, vietando l'uso di questi farmaci bloccanti della bubertà, perché si sono resi conti che stavano creando una devastazione sociale giovanile che non aveva esempi nella storia, cioè non si può, non si può e noi siamo sempre venti anni indietro rispetto all'America e all'Inghilterra, non capito? Arriviamo sempre dopo. Il problema è proprio quello. Già finito? Ne iniziamo noi, ma che stiamo facendo? No, ma in realtà, guardi tu Baldi, che la cosa è veramente seria perché approfittiamo del fatto che siamo vent'anni indietro, ma approfittiamo di questo fatto perché almeno facciamo tesoro degli errori e facciamo tesoro degli errori, no? Visto che ci siamo accorti che hanno sbagliato, ma benissimo, allora cerchiamo di essere un po' più intelligenti noi a dire, ok, questa è una strada che noi non vogliamo percorrere, a meno che c'è un altro fine. Allora, che la famiglia sia sotto attacco, lo sappiamo oramai, no? La famiglia è il nucleo essenziale, autonomo, indipendente di qualunque società, perché lo Stato non va, non riesce ad andare dentro la famiglia, comunque dentro il nucleo familiare non riesce ad entrare e quindi la deve distruggere. Che la famiglia sia sotto attacco purtroppo… Anche io di questo, mi sono fatto una ragione anche io, che la famiglia è ancora un nucleo troppo individualista, diciamo così, no? Pericoloso per il controllo totale delle vite da parte di uno Stato e quindi questo è grave, spero che la famiglia si ribelli perché tanto la famiglia è famiglia, sarà difficile staccare gli affetti dei figli e genitori o il padre e il marito con la moglie, ci sono i divorzi, ma questa è naturale, però le famiglie crescono, si sviluppano, creano parentele, è una cosa bellissima che va invece conservata, semmai. Noi abbiamo pochissimi minuti Ferranti a disposizione, però io li vorrei dedicare anche al fatto che nel momento stesso in cui si faceva questa iniziativa all'Università 3, c'era la giornata mondiale dell'aborto libero, che diceva l'aborto libero e… Sicuro l'aborto libero è gratuito, infatti sulle spese nostre, capito? Io le mie tasse le pago per far uccidere gli esseri umani, cioè, no, qui, vabbè… Ma quanto piacerebbe, papà, sei riuscito fuori perché a volte di solito piace… Grande papà, grande papà, sono proprio felice. C'è la sinistra perché esce fuori a volte con delle espressioni, i ricchi vanno tassati, no, l'immigrazione è un peccato bloccarla, non fare l'accoglienza, e la sinistra applaude. Quando comincia a dire che anche i medici che partecipano all'aborto sono dei sigari, oddio, crolla tutto il mondo contro il Papa Bergoglio. E questa giornata, perché è una giornata mondiale, l'ha organizzata l'OSM, c'è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, o l'ONU, l'ONU forse. Di solito le giornate mondiali, è l'agenda dell'ONU, leggo qui. Ecco, sì. Che nasce dalla protezione ai confronti delle donne. E' un tema oramai globale, è un tema globale, globalizzato. Vediamo quello che sta succedendo in America adesso, Trump e Kamala Harris. Cioè, lì veramente c'è da scegliere il male minore, perché, no? Cioè, decisamente il male minore, ma se va su Kamala Harris, è quella che sostiene l'aborto fino a nove mesi. Voglio dire, ma di che stiamo a parlare. Lì è l'autodistruzione, è un autogol pazzesco dell'America, in realtà. Perché se va su un presidente come questa donna, è favorevole all'aborto in qualunque età, qualunque età gestazionale. E probabilmente anche dopo, forse ne abbiamo già parlato, dell'aborto post nascita. Altra piaga, no? Che purtroppo... Per recente poi, infatti... Ma allora, no, si parla di aborto post nascita in realtà già dagli anni 70, purtroppo. Però, ecco, poi ci sono stati ricercatori, anche italiani, che hanno portato avanti questa aberrante teoria, no? Che un bambino può essere ucciso anche dopo la nascita se un'ecografia, che ne so, il monitor, non aveva rilevato un problema per il quale i genitori avrebbero abortito. E quindi può essere ucciso, cioè si può fare in pratica l'infanticidio. È un'ipocrisia assurda chiamarla aborto post nascita, perché se è post nascita è un infanticidio. Come questa ragazza, Chiara Petrolini, che ha ucciso i suoi due figli, li ha partoriti. Quello non è un aborto post nascita, quello è un omicidio. Cioè, lei ha ucciso per due volte i suoi due figli. Quindi è... Ed è infatti condannata. Cioè, io lì ci avevo fatto anche un post in Facebook. Cioè, è stata condannata per, appunto, con un occultamento di cadavere, eccetera, eccetera, no? Omicidio. E però, ecco, l'aborto invece è un diritto. Continuano a dire che è un diritto. Noi continuiamo a dire, non ci stancheremo mai, che nemmeno la 194 sancisce questo diritto. Non esiste in Italia un diritto ad abortire. Perché non vogliono leggere evidentemente bene la legge 194. Io, purtroppo, oramai davvero, è stancante ripeterlo ogni volta. Capita quasi ad ogni trasmissione che lo devo dire. Ma mettetevelo bene in testa. Non è una legge abortiva. Non esiste in Italia un diritto all'aborto. E comunque un diritto non può essere nemmeno costruito sull'uccisione di un altro essere umano. Come si fa a costruire, a parte il fatto l'aggravante che è una madre che uccise il proprio figlio, no? Ma come si fa a costruire un diritto sull'uccisione di un altro essere umano? E non ci vengano, per favore, ancora a raccontare la favola del grumo di cellule, perché è la scienza stessa che dice che la vita umana, è la scienza che lo dice, la vita umana nasce nel concepimento. È dal concepimento che nasce, su cui abbiamo discusso, anche io ho scritto anche parecchio su questo. Cioè, quindi non ci si può distaccare dalla realtà. C'è un distacco dalla realtà. Quando si parla di essere nato in un corpo sbagliato, quando si parla di non-binary, il non-binary, non-binario, è il non riconoscere che esistono due generi e basta. Maschio e femmina. Maschio e femmina li creò. Dalla notte dei tempi lo sappiamo. Che sono uomo e donna, maschio e femmina. Il non-binary significa non riconoscere che esiste questa realtà naturale, che è l'unica realtà esistente, e quindi vuol dire negare la realtà. Se tu neghi la realtà, ti distacchi dalla realtà. Così come ti distacchi dalla realtà se dici che il concepito, quell'ovulo e quello spermatozoo che si sono uniti, lì non c'è un essere umano. Oppure si entra nelle scuse del genere, ah ma non è moralmente rilevante. Ho letto di tutto e di più, delle castronerie impressionanti ho letto, anche, veramente se ne leggono ogni tanto, che uno si mette le mani tra i capelli, tant'è vero che io me li so tagliati i capelli, per smettere di mettermeli tra i capelli. che non è moralmente rilevante e non sente dolore. Allora, il bambino sente dolore quando ancora tu non sai di essere incinta. Cioè nel senso che lo sviluppo sensoriale avviene in settimane in cui tu probabilmente nemmeno ancora sai di essere incinta. o non hai ancora ben capito che cosa è accaduto. Ecco allora, di che stiamo a parlare? Il bambino sente, mentre viene spezzettato nel grembo di sua madre o viene bruciato con un farmaco, sente tutto il dolore del mondo. Mettetevelo in testa. Creiamo un enorme dolore ad una creatura innocente che è già in rapporto con la mamma ed è un rapporto meraviglioso. Se solo le mamme potessero vedere, sentire davvero che tipo di rapporto si crea di comunicazione, comunicativo tra feto e madre, non ce ne sarebbe più nemmeno una di quelle pitturate che si chiamano una di meno. Se solo riuscissimo a comprendere il miracolo della vita, quello che avviene, la grandezza che avviene nel grembo di una donna quando rimane incinta e quando si sviluppa una vita. Ecco. Tutto questo significa veramente distaccarsi dalla realtà, non volerlo riconoscere. E allora, non lamentiamoci, se aumenteranno le pazzie, aumenteranno il lavoro per gli psicologi e gli psichiatri. Questo è poco, ma sicuro. Perché tutti questi bambini disorientati, oltre a rendere conto a te, prima o poi, di quello che gli hai fatto fare, di quello che gli hai creato, saranno tutte persone che dovranno capire veramente chi sono. Perché un tipo di cultura di questo genere non può che portare al disconoscimento della propria umanità. Perché io non mi posso più riconoscere, uomo o donna, a che cosa vuoi portare, se non solo a qualcosa di male può portare tutto questo. E questo non è un moralismo, eh. Questo significa avere i piedi piantati per terra, guardare e osservare i fatti e la scienza. e guardare quello che accade. Allora io vorrei dire a Roma 3, al comitato etico, a tutte le università che mettono la carriera alias e tutte ste baggianate, di guardare veramente la realtà, i fatti, e ad essere un po' più, come dire, antropofili. Amare un po' più l'essere umano, amare un po' più l'umanità. Perché se non c'è questo amore per l'uomo, per la vita, per la vita proprio a prescindere, non ci può essere progresso per l'umanità. Ci può essere solo regresso. No, abbiamo avuto modo, dottoressa Ferranti, di appunto toccare questi argomenti, lei li tratta con molta passione, per cui mi prende molto questa sua esposizione. E noi ci lasciamo, ci lasciamo con la promessa naturalmente, perché tanto qui ho visto, ho iniziato questa sommissione dicendo, guardate che è una maniera preoccupante il fatto che se ci sentiamo spesso con la Ferranti, è perché succedono spesso delle cose eclatanti in Italia, e che impegna anche il Movimento Pro Vita ad essere sempre più presente nelle piazze, come è stato. E il fatto, ad esempio, che siano stati contestati i manifesti, o i video del cuore che batte, nel bambino che è in grembo, va appunto ad appoggiare, a rafforzare questa sua tesi, o questa sua esposizione e considerazione che ha fatto, del fatto che comunque noi trattiamo un essere umano e basta, non un grumo di sangue, come qualcuno vuole farci intendere, per sminuire l'atto in sé. Che poi la legge sull'aborto debba esistere, ormai è fatto che in molti paesi del mondo questo è legge, anche se con diverse sfumature, disposizioni. Ecco, la Kamala Harris vorrebbe addirittura far sì che, sino a che non partorisci, puoi sempre avere l'idea di poterti disfare di quello che c'è in grembo. Disfarsi di un grembo che pesa già, che ha al suo interno un essere umano di 2, 3 o 4 kg, veramente ci vuole del coraggio. Ma non è tanto il peso o l'evidenza di questa vita che sta dentro la pancia della mamma, cosa che magari a tre mesi non appare. È il fatto di avere l'idea che comunque uno si disfà di una vita che si è generata, grazie a un atto anche d'amore, no? D'altra parte. Benissimo, allora ci risentiamo, tanto è di questa società che dobbiamo risentirci e lo faccio anche con molto piacere perché lei ci insegna anche sempre tante belle cose. Grazie per l'antica. Grazie a lei e alla prossima. Arrivederci. Ci vediamo. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.